Diamo il bentornato a Mido ad Alex Del Piero, come sta andando questa avventura con ARDP? Bene, bene, siamo molto contenti di quello che è il prodotto che stiamo facendo e della risposta che c'è per cui è un progressivo crescere per quanto ci riguarda, siamo soddisfatti ma ovviamente desiderosi di fare ancora dei bei prodotti, delle belle cose. Tra le novità che presentate quest'anno c'è la collezione Sole Texture, ce la vuoi presentare? Perché casualmente noi siamo proprio di fronte alla collezione Texture, esattamente che questa, non so quanto riuscirete a vedere, abbiamo quattro modelli, di questi quattro modelli sono tutti realizzati in 3D, prima disegnati con delle forme triangolari oppure piramidali a seconda di quelle che sono bucate come questa e niente, abbiamo giocato anche sui colori, ovviamente, ed è una cosa abbastanza forte perché poi l'impatto è importante. Molto scenici. Se ne dovessi scegliere uno, quale sceglieresti? Sì. Va, di quelli che ci sono qua, probabilmente questa forma qua, questo qua, questo mi piace molto. Come sto? Molto bene. Devi dire molto bene, giusto? Benissimo, molto bene, aggiudicato. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, ciao.